Rieccoci ancora qui in diretta e sono in compagnia dell'amico e collega Michele Cristallo. Buonasera Michele. Buonasera a te e agli assoltatori. Con il quale commenteremo i principali fatti di questa giornata. Allora intanto vi do un'ultima ora. Notizia di Carolina che è appena arrivata in redazione. Rapina a mano armata in un supermercato di Modugno. Due malfattori che impugnavano pistole, forse giocattolo, con il volto coperto con caschi. Hanno fatto eruzione nel punto vendita Despar di via Cesare Battisti. Si sono fatti consegnare i contanti della cassiera sotto la minaccia delle armi. E poi sono fuggiti. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione. Questa fa un po' il paio con le notizie di cronaca. Ebbene sì, questa è una notizia preoccupante. Perché la criminalità organizzata ha un'escalation impressionante. Dico, questa notizia che tu hai appena letto. Fare il paio con la rapina nella sala bingo. Che è stato anche particolarmente drammatica per la gente che era presente lì. E per la spregiudicatezza con la quale i banditi hanno operato. E questo la dice lunga sulla criminalità organizzata che diventa sempre più aggressiva. E gli episodi si moltiplicano purtroppo. La cronaca ci offre ogni giorno episodi di questo genere. Di aggressioni, di rapine, di scippi, di risse che finiscono anche a volte tragicamente. Purtroppo è una realtà con la quale stiamo convivendo da alcuni mesi. Auspichiamo che è un esplice che noi facciamo sempre. Che le istituzioni, che le forze dell'ordine non siano lì a vigilare. Ad assicurarci una certa tranquillità. Ma finora dobbiamo prendere atto che è soltanto l'auspicio. Ecco, Michele, questi sono reati che tu colleghi alla criminalità organizzata? Oppure ad opera di singoli? Ma è un misto tra criminalità organizzata che è un po' in crisi. Perché molti capi clan sono in carcere. E chi ha preso il loro posto è gente giovane, è gente spregiudicata, è gente che non conosce, come dire, con tutte le virgolette del caso, il codice d'onore della criminalità, alla quale eravamo abituati con i vecchi e i capi clan. E poi c'è la crisi che ci ha messo anche di suo. Ci sono i piccoli reati. Io non voglio parlare di microcriminalità, parliamo di delinquenza, di delinquenti che si scatenano per tirare, come dire, la giornata a modo loro. Ecco, c'è il contrabbando di sigarette che ha ripreso quota, c'è lo spaccio di stupevacenti che non ha mai cessato, ci sono gli scippi, ci sono i furti nelle abitazioni. Quindi tutto un complesso di situazioni che mina gravemente la serenità e la tranquillità della nostra vita quotidiana. Dei cittadini, infatti. Allora, torniamo all'Ateneo. Vedo Serena Russo in compagnia di altri ospiti. Oggi parliamo del degrado dell'Ateneo alla luce anche degli ultimi episodi, l'ultimo nord di tempo, degli studenti che fotografarono delle siringhe all'interno di uno dei bagni dell'Ateneo. Serena. Sì, Alessandra, eccoci di nuovo insieme. Sono tra altri due ragazzi, due militanti dell'associazione Link di Bari. Tu hai fatto bene a ricordare quello che è successo, l'ultimo accadimento in ordine cronologico, quindi ritrovamento di sangue e siringhe all'interno dei bagni, ma quello è un caso limite. Invece noi oggi vogliamo raccontarvi quello che questi ragazzi vivono quotidianamente all'interno dell'Ateneo e non solo. Allora, abbiamo preso le mosse da questo flash mob che vuole in un certo senso denunciare lo stato di degrado delle aule. Quindi quello che chiedo a Nicola è qual è lo stato di degrado delle aule. Ce la vuoi descrivere? Sì, allora, c'è da sottolineare innanzitutto la presenza di polvere, che in alcuni casi causa addirittura allergia alla polvere, quindi casi proprio di sanità mancata. E poi sedie rotte, banchi non sempre perfettamente funzionali, che rendono difficile appunto stare fisicamente all'interno di un'aula e la rendono molto ostile a noi studenti quando quello è un luogo importante di formazione, quindi un luogo in cui noi dovremmo riuscire a vivere bene e in modo sereno. Ci sarebbe piaciuto, Alessandra, mostrarvi le immagini, ma vista l'ora, a quest'ora purtroppo le aule sono chiuse. Tra l'altro questo è un altro argomento che affronteremo più tardi insieme a Francesco Innamorato. Ma vengo da Raffaella. Allora, dicevamo il flash mob. Cosa farete esattamente nel flash mob? È un gesto puramente cosciente e simbolico e una presa di posizione da parte degli studenti che rivendicano il diritto ad avere degli spazi dignitosi e che sentano come propri, perché l'università non può ridursi solo alle lezioni e ai momenti degli esami, ma è uno spazio di regolazione per noi studenti, è una ricchezza molto importante. E sentirli come propri e curarli anche in questa maniera ci permetterebbe quindi di viverli meglio, con meno stress e più soddisfazione anche a livello della nostra formazione. Ovviamente il flash mob è soltanto il primo step di un discorso più ampio, Raffaella. Sì, infatti è il primo gesto simbolico di un intero progetto che portiamo avanti già dall'anno scorso, che si propone proprio di rivalutare quello che è proprio il terzo piano di Via Nicolai, quello più colpito da queste questioni. Ci sarebbero anche le proposte da parte degli studenti di mettere degli opi. Grazie Serena, va bene così, ci rivediamo tra poco. Allora Michele, del grado dell'università l'abbiamo visto tante volte, anche vandalizzato il palazzo dell'Enel, questo portò anche una manifestazione di solidarietà. L'università, l'università barese vive uno stato di malessere che è preoccupante per la serenità delle attività didattiche, mancano gli spazi, gli spazi a disposizione spesso non sono all'altezza delle strutture degne di tal nome, mancano gli spazi anche didattici, mancano gli spazi per le attività collaterali, manca e non è agevole l'accesso alle biblioteche dell'università. Il rettore Uricchio ha manifestato tanta buona volontà, però deve fare anche lui i conti con la carenza di risorse finanziarie che rappresentano in questo momento il problema forse più grave dell'università, non soltanto per questi, ma anche per altri problemi più strettamente collegati all'attività didattica. Parlava tanto Michele di un controllo sociale delle piazze, questo per allontanare anche episodi di criminalità non strettamente dipendenti e collegati all'università. Certamente, c'è quella piazza Cesare Battisti per esempio che è diventato una sorta di migavagante per l'università, per la facoltà di giurisprudenza e scienze politiche che è lì ospitata e anche per la stessa nuova struttura, quella dell'ex palazzo Enel, che non sappiamo in che modo ha influito sulla disponibilità di spazi nuovi dell'università e in particolare della facoltà di scienze della formazione, perché non si è ancora capito come è produttivamente utilizzata quella struttura. Allora, cambiamo argomento, l'avete visto già, è la notizia nei nostri titoli di apertura, è la notizia un po' del giorno, Binetti ha rassegnato le sue dimissioni nelle mani del sindaco dopo aver ricevuto un avviso di garanzia. L'Antab ancora una volta finisce nel risale, l'onore delle croniche giudiziarie, anche per diversi filoni che vengono da molto lontano. Ma ormai tra quello che accade a livello nazionale e quello che accade a livello locale, dobbiamo dire che da cronisti siamo un po' stanchi forse di registrare di questi episodi di malcostume. Certo, c'è la presunzione di innocenza come in tutti i casi, però c'è da stare con le orecchie, le antenne tese per cercare di approfondire e analizzare questi fenomeni che sono fenomeni che mettono in crisi non soltanto le istituzioni, ma ancora una volta allontanano la Repubblica dalla politica e questo certamente è un danno anche per la democrazia oltre che per l'economia. Ti chiedo quanto queste inchieste giudiziarie pesino sulla percezione di efficienza del servizio tra i cittadini? C'è da vedere come vanno a finire poi queste inchieste e se i colpevoli vengono accertati se ci sono e se vengono sanzionati in maniera adeguata. Allora, cambiamo argomento e parliamo di politica come sempre abbiamo fatto con il nostro Michele Cristallo. Intanto nel centro-destra abbiamo parlato di rottura, una rottura che comunque continua a demarcare la sua linea di confine tra i lealisti berlusconiani guidati in Puglia da Vitali e l'euro parlamentare di Maglie Fitto e i suoi ricostruttori. Ci si mette però Schittulli che è sempre tentato una mediazione tra queste due anime dei forzisti, soprattutto in Puglia. Il centro-destra è venuta a determinarsi in una situazione singolare. C'è l'impressione, come dire, la dichiarazione ufficiale è quella di un Forza Italia unita e di una coalizione centro-destra che viaggia unita verso l'elezione di Francesco Schittulli. Però all'interno di Forza Italia ci sono ancora divisioni tra i seguaci di Fitto e Vitali. Non sappiamo come andrà a finire, probabilmente ci sarà il risultato ospicabilmente positivo della mediazione di Schittulli che sta navigando tra due fuochi contrapposti. Speriamo che questi fuochi non siano più contrapposti. E poi c'è anche una situazione singolare che si è delineata nel centro-sinistra tra Vendola e Emiliano. Questa è una situazione che non ci sorprende perché il rapporto odio-amore tra i due personaggi, i due dirigenti politici, amici-remici, ormai è nella tradizione da alcuni anni della storia politica pugliese. E il teatrino della politica che ci presenta delle scene e delle sceneggiate, io direi a volte sempre nuove, vedremo quale sarà il prossimo atto. La sanità comunque resta sempre il cavallo di battaglia delle competizioni elettorali. Il cavallo di battaglia delle competizioni elettorali perché il centro-destra Schittulli ha dichiarato che lui giocherà tutte le sue carte e la sua fortuna di governatore proprio sulla sanità. Dall'altra parte il candidato di centro-sinistra, Emiliano, dichiarando di voler avvocare a sé la gestione della sanità, anche lui ne ha fatto un cavallo di battaglia importante ed è un cavallo di battaglia che sta cavalcando anche nel corso delle sagre che sta facendo ogni settimana nei vari capoluoghi della regione. Allora, noi siamo in chiusura di questo spazio. Michele, come andrà a finire questa campagna elettorale? Lasciamoci andare ad un pronostico che ha il peso che ha, visto che viene fatto comunque. L'elettorale che appassionerà certamente l'opinione pubblica, appassionerà anche i giornalisti i quali sono già impegnati in una sorta di pronostico, un pronostico difficile perché il sondaggio ultimo che abbiamo letto sui giornali da il candidato di centro-sinistra è 10 punti avanti rispetto a quello di centro-destra. Però il centro-destra, Schitulli, sostiene di aver guadagnato e quindi il distacco è poco sensibile. Almeno così parrebbe. Vedremo che cosa accadrà. Tutto dipende dal rapporto che sapranno instaurare i candidati con l'opinione pubblica e dal livello di fiducia che saranno capaci di conquistare e di portarli soprattutto alle urne perché ancora il mostro da temere è quello dell'astenzionismo. Bisognerà capire anche perché in questo sondaggio realizzato dal PD nazionale si parlava di un 25% di indecisi. Una flotta probabilmente destinata a crescere man mano che ci si avvicina alla competizione. E' un partito ancora forte e se le coalizioni politiche continueranno ad agire come oggi cioè tra tensioni e divisioni, fronti e contrapposti è un esercito che è destinato ad ingrossarsi. Allora stop, siamo in chiusura di questo spazio. Non mi resta che ringraziare Michele Cristallo per essere stato con noi. Grazie Michele. Grazie a voi per l'ospitalità, buonasera. Ci fermiamo, pausa pubblicitaria e poi torniamo con tante altre notizie. Grazie a voi.